Musica Elezioni regionali e vittoria arrestosa senza il deputato dove no a Fabio Nicosia a tirarsi indietro potrebbe essere anche Carmelo Incardona Elezioni regionali, il dilemma democratico dei tre posti per quattro contendenti arriva in commissione trema alla poltrona del segretario provinciale Salvo Zago Comune di Ragusa è arrivata a Margherita Rizza, nuovo commissario dell'ente, oggi incontro con la stampa Ragusa dopo Archifest arriva, ricentriamoci, il comune spende 22.000 euro per l'ennesima manifestazione Caucana è stato un ragusano per spaccio di droga, l'operazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo Musica Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Free News Seconda edizione di quest'oggi apriamo ancora una volta con la politica regionale C'è fermento, come sapete, all'interno dei vari partiti per chiudere le liste In queste ultime ore in particolar modo si stanno aprendo nuovi scenari a Vittoria Dopo la quasi certa esclusione di Fabio Nicosia dal partito democratico anche Carmelo Incardona potrebbe fare un passo indietro e non correre all'interno della lista di Grande Sud E Vittoria restò senza il suo deputato Questo quanto si prospetta in vista delle elezioni regionali del 28 ottobre La notizia sorprendente riguarda un possibile passo indietro da parte del deputato uscente di Grande Sud Carmelo Incardona A non convingere Incardona sarebbero state le scelte fatte dal partito a livello regionale In alcune province infatti la lista del partito di Micicè si presenta debole e a questo punto lo sbarramento del 5% non sarebbe così certo A ritirare la propria candidatura è stato anche Sebastiano Failla di Scicli In campo così resta per il momento il solo Giovanni Mauro Ma se Atene piange Sparta non ride Anche il partito democratico è senza candidato vittorese Questa volta non per un passo indietro dell'aspirante onorevole Fabio Nicosia ma per una scelta dettata dal coordinamento regionale che ha preferito confermare i due uscenti di Giacomo e Ammatuna e candidare Giuseppe Calabrese espressione di un'area diversa da quella di Fabio Nicosia che è rimasto così vittima delle correnti Il terzo candidato forte poteva essere o può ancora essere l'assessore regionale Francesco Aiello L'ex sindaco si vorrebbe candidare nella lista del partito dei siciliani MPA ma Riccardo Minardo ha detto no Il suo seggio infatti sarebbe così a rischio Ma Aiello non ha accettato la proposta di inserirsi nella lista di future libertà MPS considerata debole per raggiungere il 5% a livello regionale e così non ha ancora sciolto i nodi della sua candidatura A questo punto la città Ipparina, seconda in provincia per numero di abitanti potrebbe non avere alcun deputato regionale di nessun schieramento Restano comunque i candidati delle liste minori Giuseppe Mustile per Fava Presidente nell'Oddieri per Fli Marco Piccitto per Italia dei Valori Liste che però devono confrontarsi con il difficile scoglio del 5% Intanto facendo una paroramica a livello provinciale L'API e i socialisti candidano un proprio esponente nella lista Crocetta Presidente Sebastiano Currieri e una donna del PSI faranno compagnia a Nello Di Pasquale E sempre a proposito di elezioni regionali, lo avete sentito prima Fabio Nicosia sarà quasi certamente l'escluso dalla lista ufficiale del Partito Democratico E l'attenzione all'interno del Partito è alle stelle Momente a cardiopalma all'interno del PD provinciale E a vacillare la poltrona del segretario provinciale Salvo Zago Contro di lui sarebbe insorto il circolo cittadino di Vittoria A cui non è andato giù il modo in cui Zago ha gestito il dilemma democratico Tre posti per quattro pretendenti A suscitare l'ira del circolo e parino è nello specifico la decisione del segretario Di sospendere la direzione provinciale di qualche giorno fa A causa dell'incapacità di risolvere il problema in casa PD Zago avrebbe rimesso la questione in mano alla commissione regionale Per le candidature prevista dallo statuto del partito Effettivamente il ruolo della commissione sarebbe proprio quello di risolvere Eventuali incongruenze o discordi all'interno delle liste provinciali dei candidati Dunque Zago si sarebbe limitato ad applicare lo statuto Ma Vittoria questa scelta non è andata giù Il circolo e parino avrebbe preferito che la questione venisse risolta in casa Come dare loro torto d'altronde perché l'intervento della commissione regionale Con ogni probabilità si trasformerà nell'esclusione del candidato e parino Fabio Nicosia La previsione dell'uscita dalla lista ufficiale del PD di Nicosia Si basa sull'analisi delle cosiddette correnti interne al partito Che fanno capo a diversi esponenti politici regionali I quali propongono al loro candidato un esponente cioè della loro area di influenza Ebbene secondo questa distribuzione dei candidati Nicosia sarebbe escluso dai giochi A vantaggio di Calabrese, Ammatuno e Di Giacomo A quel punto l'unico modo che il candidato e parino avrebbe per poter essere eletto E' che Di Pasquale venga inserito nel listino bloccato del candidato presidente Ipotesi al momento esclusa dallo stesso Di Pasquale da Crocetta E condizio sine qua nonne per la candidatura di Calabrese Ma si sa che da Crocetta dobbiamo aspettarci di tutto E questo sarebbe solamente l'ennesimo colpo basso del candidato presidente Il circolo e parino si sente dunque franare il terreno sotto i piedi Senza avere diritto di replica se non quello di fare tremare la segreteria dello stesso Zago Il coordinatore al di là del fatto di essersi attenuto allo statuto del partito Occupa infatti una posizione alquanto instabile Essendo stato a più riprese accusato di non avere saputo gestire la vicenda sin dall'inizio Accuse che sono pervenute non solo dall'ambiente parino ma anche da quello ragusano E chissà che oltre a sistemare le beghe interne al partito Il segretario non stia sistemando anche le sue valigie Lasciamo la politica regionale Si è insediata questa mattina Margherita Rizza Nuovo commissario del comune di Ragusa Dopo le dimissioni del sindaco Nello Di Pasquale Primo giorno di lavoro al comune di Ragusa per Margherita Rizza Nuovo commissario straordinario La Rizza, dirigente dell'assessorato regionale delle autonomie locali È stata nominata qualche giorno fa da Palermo E oggi si è insediata ufficialmente nell'ufficio del primo cittadino Rimasto vacante per diverse settimane dopo le dimissioni di Nello Di Pasquale Il commissario reggerà Palazzo dell'Aquila fino alle elezioni amministrative della prossima primavera Un compito non nuovo per lei che fino a maggio scorso Era a capo del comune di Scicli dopo le dimissioni del sindaco Giovanni XXV Fino al suo arrivo a prendere le redini in mano della macchina amministrativa Era stato il vice sindaco Giovanni Cosentini Che si è occupato di svolgere atti indifferibili e inderogabili Alla Rizza invece è assegnata la gestione dell'ordinaria amministrazione Qua almeno si pagano gli stipendi e quindi già è un miracolo E senza aver avuto la famosa anticipazione della regione Quindi da questo punto di vista non posso certamente lamentare So che ci sono anche delle sofferenze Ditte che ancora non sono state pagate Ma insomma vediamo un attimo in ora di affrontare anche queste problematiche Ancora sprechi al comune di Ragusa Dopo Archifest la chermessa è costata al comune ben 20.000 euro Adesso l'amministrazione ha assegnato 22.000 euro per la manifestazione Ricentriamoci organizzata dall'associazione Cantanti e Contanti Vediamo Dopo Archifest a Ragusa arriva Ricentriamoci Una manifestazione che prevede sfilate, degustazioni e spettacoli Costo 22.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 20.000 spessi Per la chermessa andata in scena qualche giorno fa Al quartiere Acchi a Ragusa Ibla L'amministrazione ragusana non conosce limiti E continua a sganciare cifre considerevoli Soprattutto in questo momento di crisi A vantaggio di questa o di quella organizzazione Per Archifest si trattava di Palco 1 di Maurizio Di Castro Per Ricentriamoci dell'associazione culturale Cantanti e Contanti Presidente Alfredo Cannizzo La determina dirigenziale con cui si autorizza tale ennesimo sperperio di denaro È la numero 1.571 del 27 agosto scorso Si noti bene tre giorni prima delle dimissioni di Di Pasquale Ben 22.000 euro spesi per due serate Una il 29 settembre in piazza Salvatore a Ragusa Con una sfilata di moda Costo 11.000 euro L'altra il 6 ottobre in piazza Gian Battista Odierna a Ragusa Ibla Con un concerto Costo altre 11.000 euro I soldi così come per la Kermesse di qualche giorno fa Sono presi dalla legge su Ibla Che da tempo si è trasformata nel salvadanaio dell'amministrazione ragusana Ma come per Archifest anche in questo caso si riscontrano delle irregolarità Anche per questa amministrazione non esiste l'espletamento di una gara Ha spiegato il consigliere del PD Gianni Lauretta Tutto ciò sebbene la cifra sia notevole Possibile che nessuno si scandalizzi E addirittura si concede il parere di legittimità ad una determina del genere? Il tutto in un momento in cui al Comune si chiede ai dipendenti di fare qualche sacrificio Per economizzare qualche soldo spiega infatti Lauretta Ai dipendenti comunali si vorrebbe proporre un solo rientro settimanale Ciò al fine di risparmiare un buono pasto Due pesi e due misure dunque al Comune Soprattutto adesso che si avvicinano le elezioni amministrative E ogni occasione buona per fare campagna elettorale E racimolare qualche consenso Ma il consigliere Lauretta vuole vederci chiaro E ha deciso di impugnare le determine Di presentarne una copia agli organi giudiziari competenti Nel frattempo avanti con la prossima manifestazione E ci spostiamo adesso a Vittoria Dove il capogruppo del PDL Giovanni Moscato È tornato a denunciare i disservizi e disagi Al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello Dovuti a suo giudizio all'immobilismo Da parte dell'amministrazione comunale La giunta a Nicosia Lontana dalle reali esigenze Degli operatori del mercato di Fanello Il consigliere comunale del PDL Giovanni Moscato Torna a denunciare i disservizi all'interno Del mercato di Contrada Fanello Dopo anni dalla nascita della Vittoria Mercato SRL Il cambio di tre presidenti E sei anni di sindacatura a Nicosia Siamo ancora al punto di partenza Questo è quanto sostenuto dal consigliere comunale Che ha puntato l'attenzione sulle concessioni ai commissionari La verità ha proseguito l'esponente del PDL Che a distanza di parecchi mesi Dal bando per il rinnovo delle concessioni L'amministrazione comunale è incolpevole in ritardo In quanto ancora ad oggi i commissionari Sono costretti ad aspettare E si trovano in una situazione di limbo Con concessioni prorogate ogni due mesi E senza alcuna certezza per il futuro Infine, conclude Moscato Il sindaco Nicosia e la sua maggioranza Con la politica del non fare e del non decidere Per non scontentare qualcuno Negli ultimi anni sono riusciti a deludere Tutte le categorie E a frustrare le aspettative di un mondo economico Che ha aspettato per troppo tempo Il rilancio del mercato Il centro di contrata perciata Vittoria Non è ancora funzionante Il PDL ha chiesto un intervento Dell'amministrazione comunale Per farsi parte attiva Per sbloccare le impasse E diventare l'ente proprietario Della struttura Centro di ricerca di contrata perciata Ancora non attivo Il PDL di Vittoria Ha presentato una mozione di indirizzo Per impegnare l'amministrazione comunale A sollecitare la definizione della questione Vogliamo, ha dichiarato il consigliere Andrini Nicosia Che la discussione venga affrontata In consiglio comunale Perché il consiglio si esprima Rispetto alla questione Che attiene il non funzionamento Del centro di ricerca applicata Sappiamo non essere di competenze dirette Del comune di Vittoria Di cari del consigliere Ma appare doveroso Che l'amministrazione comunale di Vittoria Certamente città più interessata rispetto alle altre Solleciti gli organi competenti Per mettere finalmente a pieno regime Il funzionamento della struttura In questi anni infatti Si è assistito alle passerelle Di istituzioni di ogni ordine e grado Che hanno assunto impegni puntualmente disattesi Anche perché il centro di ricerca Nonostante non sia mai stato messo in funzione È stato motivo e ragione Per elargire da parte del governo Lombardo Consulenze di cui non si conoscono i risultati Provincia e regioni hanno scaricato L'una sull'altra la responsabilità Sulla mancata apertura della struttura Nella mozione è stato richiesto Che il comune si faccia parte attiva Che l'amministrazione intervenga Chiedendo inoltre il trasferimento della struttura Al patrimonio dell'ente comune Per contiguità territoriale E per l'importanza che la struttura Potrebbe avere per un territorio come quello vittoriese E ci fermiamo adesso C'è la pausa pubblicitaria a fra poco Andiamo a tutti